Come si affronta questa nuova fase a Napoli? Aprono i parchi, aprono i cimiteri, le forze di pulizia mi hanno assicurato più controllo, le persone possono andare, possono camminare, si può correre da soli, ma no assembramento. Una cosa che temono i ciclo amatori è il ritorno anche del traffico e fanno anche delle richieste. Noi stiamo mettendo in campo, anche con la consulta sulla mobilità alternativa, un piano di rafforzamento delle piste ciclabili, delle pedonalizzazioni. Per quanto riguarda i mercati alimentari che invece restano chiusi? Abbiamo preparato tutto, è arrivata ieri l'ordinanza della regione, invece ci aspettavamo l'ordinanza della regione sui tamponi per chi ritorna da fuori. Non c'è la previsione del tampone obbligatorio, questo ci preoccupa un po' perché era l'unico modo per contenere l'eventuale rischio di una diffusione, di un contagio di ritorno.